Sì, sì, sono riuscito a deviarla in calcio d'angolo, fortunatamente è andata bene, abbiamo giocato una grandissima partita, abbiamo fatto un risultato molto importante in ottica salvezza e ora dobbiamo continuare così, ci godiamo questa vittoria ma da domani pensiamo già al benevento. Senti, salvezza adesso è una prova un po' più piccola, i play-off sono a tre punti. Sì, vabbè, come voi ben sapete il nostro primo obiettivo è la salvezza, ora ci troviamo a tre punti, ce la giochiamo e cercheremo di dare fio da torcere a tutte le squadre che incontreremo. Pietro, 42 punti lo hai detto tu, adesso c'è il benevento, altre tre gare per noi poi c'è purtroppo la sosta dell'ultima giornata, l'appetito viene mangiando? Sì, l'appetito viene mangiando, ora ci troviamo qui, ce la giochiamo, siamo consapevoli della nostra forza, siamo una squadra compatta, unita e come hai detto tu andiamo lì a giocare a benevento cercando di imporre il nostro gioco e di fare il risultato. La stagione l'abbiamo vissuta insieme, tu in campo, noi sugli spalti, era iniziata un po' così così, poi il ritorno in campo, un rigore parato al 95esimo, tante parate in queste ultime gare, ma oggi due parate fondamentali per questa salvezza. Sì, sì, diciamo come ho detto prima è andata bene, se abbiamo giocato bene io sto in porta per parare, quindi il mio mestiere è questo, cerco di fare il meglio, mi alleno sempre al 100% per arrivare la domenica in forma. Quanto è bello giocare al San Vito Marulla? Al San Vito Marulla è sempre bello giocare con 7, 8, 9 mila persone, non ci sono altri campi secondo me che ogni partita in casa ci sono 10 mila persone, è sempre bello soprattutto giocare con loro alla fine. Questa salvezza sta anche in Leone di Perlina che ha voluto fortemente il posto in prima squadra, te lo sei proprio strappato con i denti e con le unghie. Diciamo che all'inizio, come ho sempre detto, è stato molto difficile per me, ho sofferto, mi sono sempre allenato, zitto, e diciamo che ora sto raccogliendo delle soddisfazioni. Prima di B, grande soddisfazione. Sì, grande soddisfazione da parte di tutti, parecchi siamo esordienti in Serie B, stiamo facendo il meglio e dobbiamo continuare così.